ciao a tutti e bentornati nel canale di r0 siamo sempre roberto e riccardo e oggi vi proponiamo un nuovo video di unboxing per una collezione sempre di gran festa davvero particolare ovvero collezione premium con statuina statuina di pikachu che contiene ben due carte promo ovvero pikachu v e pikachu v max e poi se andiamo nel dettaglio di quello che contiene abbiamo oltre due carte promozionali la statuina extra large che si vede ampiamente otto buste da quattro carte di gran festa e tre buste di espansione aggiuntive che andremo a vedere quali adesso con sempre con il nostro trucco di magia andiamo a spacchettare il tutto ha nota bene questo box ci è stato fornito gentilmente da alessandro che è un tuo collega il mio ex collega che a cui noi che noi ringraziamo ci siamo arrivati ringraziamo tanto per questo unboxing e quello tutto il suo contenuto andrà al legittimo proprietario andiamo avanti magia ed ecco tutto il contenuto del nostro box pikachu premium premium sbustato iniziamo dalla statuina statuina bellissima devo dire anche abbastanza pesante molto molto carina che farà davvero una bella esposizione nel nostro salotto siete d'accordo ne convieni ne conviene poi abbiamo la due promo pikachu v e v max la qualità delle promo nonostante vi ha avuto 8 box su cui scegliere il negozio dove ho preso il pin box lasciano può desiderare come vedete la la bordatura destra e molto più grossa quasi il doppio della sinistra inverso per la parte di pikachu v max dove il bordo destro è più sottile del bordo sinistro però per il resto la qualità delle carte e dei bordi degli angoli mi sembra ottima bene detto questo poi abbiamo tre buste di una fiamme oscure una volta che svolgurante e una fregore di belle esatto iniziamo dalla fettentissima fregore di belle che dici noi siamo appassionati di tutto tranne che di fregore di belle è veramente invincibile eccolo qua codicino che energia troviamo psaico per me buio buio per te iniziamo con robbie che mi piazza subito dai allora porterai bene un lampente miniera di galar bronzong parfeccio di galar meotto di galar cattori corso la di galar il tweet jamask di galare arcana il canale che è bella questa illustrazione però neanche come è arrivato fragore ribelle va via passiamo voltaggio fiamme oscure fiamme oscure fiamme oscure la scorsa volta c'erano la scorsa volta poi c'era un fiamme oscure sempre codicino meltan non hai fatto il trick meno male che ci sei tu perché io ormai sono una certa come si dice e energia acciaio non l'abbiamo giocata oggi va così cabu sol rock poltergeist bravo meltan carablast un sinister un tox un vanilvy un sinister eeeh massaggore che è successo ? eh abbiamo toccato la telecamera e anche questa vai col voltaggio per ora diciamo che le tue buste ad alessandro siamo stati L'abbiamo portato un po' male Ahah, non riesci proprio a farlo Comunque Eccolo qua Triccandato Lotta Energia Lotta Gogot Galvantules Sablai Dribble Wismur Nkada Whopper Wilsherry Carmorant Eeeeeee Lugia Lugia Olo Dai Dai, dai Insomma Vabbè se troviamo un Pikachu di Max Allora, si inizia con la ciccia vera propria Si L'allenamento non finisce mai Qua per fortuna non c'è da fare nessun trick Cosicino verrà fuori da solo Alla fine Quindi Zafron Eeeh Partia Ohhhh Tenente del rocket Quindi iniziamo bene Una reprint Che già abbiamo trovato ben due Si, si Eeeh Uno Zashan Uno Zashan Uno Zashan Uno Zashan Uno Zashan Bene 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 così Cosicino Eeeh Eeeh Gran festa Passi le slib Ora Quanto slib Quanto slib Eeeh Due Eeeh 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 Ecco lei Tenente Al contrario Eeeh 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 Non se ne trovano Allora Siamo da Tre carte V Terza bustina Diciamo che come ingresso Non c'è per niente male Comunque in due bustine Esatto Che ha Diciamo Iniziamo da qua Facciamo adesso al contrario Magari portafortuna Cosice Eeeh Groudon Oh 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 Uuuu Non ci credo Uuuu Non ci credo Un birthday Pikachu E' per fortuna che avevi detto Che non avremmo trovato niente No no L'ho detto che non avremmo trovato niente Mi preoccupavo Proprio per la nostra Fortuna Sfortuna famosa Che non ci trovassimo niente E invece E invece Slibe per favore Assistente Si batte la fiacca E Queste in realtà sarebbero di Alessandro Sono di Alessandro Sono Certo E daremo di Alessandro Sono sue Che poi ce ne teniamo una bella Una cosa di Alessandro Che ci teniamo noi Bella mi piace questa tecnica Ehm Ehm Una cosa è tua ma la usiamo noi Ce la teniamo noi Bella No ma mi sa che il Pikachu ce l'ha Buono Non prescindere sul suo Ok Non possiamo avere questo per più No Il mio nome non sarà neanche su un Pikachu Codice Allora Codice Un V Un V Max Direi non male Non male Però possiamo fare ancora meglio Soprattutto Con questo pacchetto Vediamo 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 se alziamo il pull con questo pacchetto Codicello Codicello Ivelthal 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 Cosmog Muex Non ci credo Bellissimo E devo andare da tutte ad Alessandro Sono sue Pikachu surf Ah Pikachu surf c'era E ce l'abbiamo pure noi E lo so lo so Doppia slip per favore assistente Qua sbatti ancora la piacca Allora prendi un sacchetto dei slip Qua mi sa che devi prendere ancora slip Perché qua siamo un pull fortunato Sono molto contento Molto 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 contento Per Alessandro Certo Siamo stati fortunati noi Facciamo vedere il mio braccio peloso Ecco qua Continuiamo Tieni pronto Tieni pronto Perché qua ancora le buste sono calde Sendo che troviamo ancora qualcosa Sendo Sendo Ma secondo te che succede se metto il slip Dentro una slip Che non si muove più la carta Si 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 ingobbisce Non è che Questa è Questa è Questa è Invincibile Esatto Wonder package Eccolo qua Coricello Refiram Chiavre Graua Graua Niente da fare con questo Niente da fare con questo Niente da fare con questo Oh Ultima quotazione oggi di card market 56 euro Grazie 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 Wow Te ho detto che le slip dovevi tenerle su Dovevi tenerle su Che qui adesso E c'è fortuna che ho vinto E in questo boccato niente Hai ragione Non pensavo giustamente che uscisse Alla quarta E in realtà essendo Parte del set base No delle reprinte Esce alla quarta Giusto Giusto Quindi è fino alla quarta Terza e quarta Beh adesso le quarta Le abbiamo già finite Dai 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 Che possiamo fare ancora qualcos'altro Dai 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 Alessandro Certo Sì È fortunatissimo È fortunatissimo È fortunatissimo Respiriamo Osmog Pikachu Birthday Secondo Ok questo ce lo teniamo Non credo proprio E per finire Pikachu Full Art Doppia slip per favore ancora Bene Ancora e ancora Questo si che Questo si che è un pull Questo si che è Questo si che è un pull Dobbiamo spostare Le chiappone del Pikachu Perché Ups Come lo stavi mettendo Sì infatti Eccoci Ultima bustina Ultima bustina Che ci sia un Charizard o un Umbreon Completiamo con un Charizard Facciamo il botto finale Speriamo di no Come speriamo di no Ehm Ma come Ok speriamo di sì Ma Sei invidioso di questo Unbox? Ehm 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 Sono contentissimo Invece Voilà Ultima Ultima Ultimo shot Ultimo bullet Ehm 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 Niente Niente Grodon Ehm Pikachu Volo per terminare Direi 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 che con questa Sì Direi che con questa ultima V possiamo fare Una review finale di quello che abbiamo trovato Sì Pikachu Pikachu Volo Pikachu Volo Vmax E le due promo Pikachu V Un altro beat di Pikachu Un tenente del rocket Pikachu normale promo Mewex Reprint E Pikachu Sir Mhm Con questo è tutto Noi vi ringraziamo ancora per averci Ehm Guardato Ehm Ehm Ci vediamo Alla prossima Alla prossima Da R0 è tutto Un grande abbraccio Alla prossima Ciao ciao